Tesla è un'azienda unica secondo me, è stata un'esperienza assurda, a volte mi chiedevano ma la consiglieresti a tutti? No, la consiglierei a pochissimi, ok, in un'azienda, noi ridavamo con i nostri colleghi di questo ma sembrava di essere in una setta. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Maurizio, qui si parla di carriera, lavoro e un po' di finanza personale e oggi ho il piacere di avere qui con me Lorenzo Danese. Lorenzo, forse lo conoscete già perché ha avuto la pazienza di ospitarmi qualche settimana fa nel suo canale, nel suo podcast e oggi ho deciso di dargli fastidio dall'altra parte del mondo per avere un po' di informazioni e condividere un po' la sua esperienza. In comune io e lui abbiamo un percorso in ingegneria elettrica nel mio caso, cioè nel suo caso elettrotecnica nel mio, per il resto devo dire due carriere molto diverse ma con tanti punti in contatto, a partire per la diversità ovviamente dall'età. Per cui benvenuto Lorenzo e se ti vuoi un attimo presentare per iniziare a raccontare. Sì, no, intanto grazie per l'invito, è stato un piacere ospitarti nel mio canale, quindi è entretanto un piacere ricambiare e raccontare. E' anche interessante per me che faccio interviste, no, essere dall'altra parte del banco per una volta. Io per presentarmi sono appunto ingegnere elettrico, sono di Padova, ho studiato lì, ho fatto tutta l'università lì, poi ho iniziato a lavorare nella provincia di Padova in una multinazionale svizzera che si chiama ABB, sicuramente chi è del settore la conosce, però diciamo ramo elettrico. Ho fatto tre anni lì come project manager, poi ho avuto questo richiamo dall'estero che in realtà avevo da Mo e mi sono finalmente deciso, sono andato ad Amsterdam, in Olanda e ho avuto la fortuna e anche l'onore di lavorare per Tesla per tre anni nel settore energy. Infatti, ti descrivo brevemente il percorso, poi facciamo focus dove mi dici tu Maurizio. Ho fatto tre anni lì, stupendi, intensissimi, dopodiché mi sono un po' stancato non tanto dell'azienda ma più del clima di Amsterdam, quindi sono tornato al sud Europa, a Barcellona, dove ho lavorato per quattro anni per Amazon. Non è cambiato settore, era molto logistico e nel frattempo diciamo ho sempre seguito progetti digitali di vario tipo, quello forse più visibile è stato questo podcast che ho da un anno in cui ho intervistato vari professionisti e l'ultima novità è che comunque ho lasciato Amazon due mesi fa e adesso sono attualmente in sabbatico godendomi la pioggia di Bangkok e dopo ne parliamo comunque studiando e vedendo anche un po' le opportunità sul mercato. Quindi questo diciamo sono io in due minuti. Perfetto no, vorrei far notare alcune cose, Lorenzo ci va su tranquillo ma ha lavorato in tre colossi, ABB è uno dei colossi a livello mondiale per tutta quanta la parte di energia, tutta la parte elettrica, impiantistica, installazioni, infrastrutture, quindi per ingegneri elettrotecnici come noi è un nome molto famoso ma lo è per tutti però che è presente ovunque. E poi queste due aziende sì mi sa le ho già sentite denominare Tesla ed Amazon magari c'è qualcosa di cui possiamo parlare e soprattutto una delle cose che mi piace è al di là del ovviamente traspare in tutte le sue attività il dinamismo, energia e le competenze ma anche questa cosa a cui hai accennato velocemente no del cambio nazione, del cambio anche settore perché io cerco spesso di spiegare no quali sono le implicazioni delle alcune scelte universitarie e come queste poi a un certo punto si fermano e quello che influisce veramente sulla carriera sono le nostre scelte personali di carriera appunto cioè ingegnere elettrotecnico non è che devi passare la vita a dimensionare impianti elettrici a verificare la stabilità delle protezioni e tutto ma tu hai fatto un percorso molto interessante. Ci vuoi raccontare in particolare la prima esperienza no quello che ti ha dato quello che ti ha aiutato per i passaggi successivi? Sì la prima esperienza, beh intanto grazie per il cappello introduttivo ma la prima esperienza è stata appunto in ABB che è questo colosso di, è uno dei leader nella robotica e se apriamo il quadro di casa probabilmente vediamo degli interruttori ABB ma magari non è molto conosciuto a largo pubblico perché non fa prodotti al consumatore diciamo però è come se fosse una Siemens, Siemens di solito è un'azienda che le persone conoscono di più e per me da ingegnere elettrico io naturalmente la conoscevo ABB era nella copertina del mio libro di trasformatori ok quindi quando stavo per laurearmi, era laurea magistrale avevo voglia di iniziare a lavorare, ero stufo, non dovevo dare l'ultimo esame e quindi ho iniziato a fare application, conoscevo due aziende che erano ABB e Siemens e ho fatto application a queste due quindi lo dico proprio per dire la casualità a volte perché siccome ogni tanto mi capita di fare consulenza con magari dei giovani professionisti che mi dicono ma io non so cosa voglio fare da grande e dicevo guarda manco io ok da dieci anni che lavoro ancora non ho capito ma diciamo non è che c'è tutto sto piano da fare a volte cioè nel momento in cui sei uno studente squattrinato e vivi con i tuoi devi solo approdare la prima azienda diciamo quindi anche per mettere un po' tranquillo chi ci ascolta e si fa venire le ansie di avere il master plan ho fatto application le uniche due aziende che conoscevo che comunque insomma sapevo che volevo lavorare che avrei voluto lavorare in una grande azienda perché avevo una certa ambizione personale e professionale sapevo che mi sarebbe piaciuto viaggiare lavorare a grossi progetti non avevo alcuna ambizione da imprenditore non mi passava neanche per l'anticamera del cervello di fare l'imprenditore quindi proprio non era neanche un'opzione nella mia testa perché non avevo riferimenti comunque in famiglia non avevo riferimenti tra vicini quindi quella non è stata un'opzione l'opzione del freelancing anche quella non esisteva perché da buono studente di ingegneria non sapevo fare niente quindi l'unica opzione a parte studiare e accumulare informazioni non so scherzando ovviamente ma freelancer ovviamente vende una competenza ben precisa quindi mi è sembrato molto naturale dire ok grande azienda sembra figo vediamo cosa c'è e lì ho avuto la fortuna insomma come sempre c'è un po' di fortuna un po' di abilità di trovare il lavoro quindi non ho mai fatto io grandi tanti colloqui nella mia vita e in ABB sono entrato tra l'altro prima di laurearmi quindi due tre mesi prima dovevo ancora dare l'esame e ancora finire l'attesi come project manager in questo stabilimento che è a Monselice se qualche mio collega guarderà questo episodio lo saluto e devo dirti che ABB è stata forse la migliore azienda in cui potessi iniziare il mio percorso di carriera perché è una di quelle aziende strutturate molto strutturate con tanti corsi ok all'inizio quando tu entri in quell'azienda lì ti dicono ti buttiamo in piscina dovrai navigare imparare a nuotare dovrai navigare da solo che in parte è vero ma dall'altra in realtà c'è sempre qualcuno che sta guardando cosa stai facendo mio manager che poi è diventato anche un po' il mio mentor se vuoi comunque mi guardava perfino le mail all'inizio e io avevo bisogno di quel supporto lì cioè io mi ricordo che quando sono entrato Maurizio mi ricordo questa cosa che una collega mi ha chiesto in che mercato andrei a lavorare io non sapevo di cosa stesse parlando fosse un mercato in che senso cosa vuol dire capisci questa è la mia preparazione al mondo del lavoro da ingegnere quindi entra in un'azienda che ti fa fare il corso da contratualistica in Svizzera ti fa fare il corso di project management a Milano mi sono fatto il passaporto per la prima volta mi ha mandato in Kuwait dopo 5-6 mesi per me era il mondo dei balocchi sinceramente ed è stato così per alcuni anni per i primi tre anni esatto guarda hai toccato alcuni punti per me veramente importanti la prima cosa della scelta della grande azienda cioè le persone non si rendono conto di quanto possa cambiare l'intera traiettoria di carriera una scelta del genere l'azienda strutturata fa veramente la differenza soprattutto all'inizio quando abbiamo bisogno di apprendere e di creare una nostra struttura io ABB la conosco molto bene perché nella mia prima esperienza lavorativa ero in una raffineria di petrolio e nell'ufficio acquisti preparai un contratto proprio con ABB quindi lavoravo con ABB ricordo che una delle cose che feci all'interno del contratto si chiamava Total Motor Management era per la manutenzione e la gestione delle centinaia di motori elettrici nella raffineria all'interno del contratto che avevo fatto inizialmente da ufficio acquisti e poi avevo usato da ingegnere di manutenzione grande esperienza usare un contratto che hai scritto tu così ti arrabbi da solo beh insomma io lì avevo messo che il personale della raffineria dedicato poteva avere accesso ai training dell'ABB ed effettivamente avevo avuto la possibilità di partecipare a delle cose di una qualità eccezionale, un livello di approfondimento e vivevo la stessa cosa perché la raffineria era di quello che poi è diventato il gruppo Total e anch'io andavo in Francia a fare corsi full time di una settimana in cui ti insegnavano tutto su determinati argomenti cioè l'azienda strutturata quelli che dicono ah è il baraccone no no quella si chiama proprio struttura cioè impari quali sono i meccanismi base che poi potrai utilizzare una volta che ti appartengono per fare le tue composizioni e per avere maggiore libertà ma esattamente quello no accennavi al controllo della mail uno può dire quello è micromanagement no all'inizio è mentoring ed è fa veramente la differenza anche io ricordo terminologie anche io mi ero confrontato con il mercato EMEA e tutto boh cosa non ci dice nessuno no e come dici tu è micromanagement se la persona ha una certa professionalità se la persona è appena entrata nel mondo del lavoro del lavoro è training no è educare il dipendente no ti dico io veramente mi sono trovato molto bene ovviamente i punti di forza che ha un'azienda poi a volte diventano anche i punti di debolezza man mano che il professionista cambia quindi se l'ho tanta apprezzata magari per i primi due anni perché comunque c'era un tipo di ambiente abbastanza controllato avevi le tue grosse responsabilità poi dovevo andarci da solo dal cliente o gestirlo ti lasciava un bel margine però per me quel margine poi è cominciato a diventare sempre più piccolo io sono sempre stato molto impaziente perché cresciamo noi esatto perché cresciamo e perché ma perché questa cosa non si cambia ma non ha senso questa cosa io ero di quelli polemici poi all'inizio non capivo le regole del gioco non capivo le regole delle multinazionali e quindi era sempre un perché perché il mio capo che non so è un santo perché si ascoltava tutte queste lamentele tipiche del giovane vuole cambiare le cose e invece sono aziende in cui devi accettare il fatto che alcune cose vengono fatte così perché sono sempre state fatte così in parte è vero in parte è vero ma c'è un senso non si può sempre ristrutturare tutto e oltretutto devi anche lavorare con le persone che hai quindi per esempio quella azienda lì non aveva un ricambio generazionale o di talenti o di giovani altissimo ok c'erano persone che lavoravano lì da 20 anni da 25 anni da 15 anni quindi non puoi chiedere a queste persone di cambiare completamente un'idea perché magari la migliori dell'1% cioè deve essere significativamente migliore per cambiare un modo consolidato di lavoro di un team queste cose non le capivo non capivo che un cambio in azienda ha sempre un costo per esempio vedevo solo magari il miglioramento e quindi per farti capire da una parte c'è il training e l'ambiente controllato dall'altro c'è comunque un ritmo di lavoro e di crescita anche di espansione dell'azienda limitata da quando sono entrato io a quando sono uscito probabilmente il numero di dipendenti è uguale ed è quello che succede in quasi tutte le aziende del mondo però poi vedremo la differenza magari quando poi parlerò di Amazon e di Tesla come invece è differente lavorare in un'azienda che scalano no esatto infatti guarda questa è una cosa che volevo subito chiederti perché Tesla cioè ragazzi è assolutamente innegabile che Tesla ha un fascino sotto vari aspetti probabilmente unico cioè a livello di risultati trasformazioni messaggio e immagine Tesla che ricordiamo non è soltanto le macchine ma cioè la missione di Elon Musk con Tesla è quella di risolvere il problema energetico del mondo no per cui ci sono tante cose su cui si lavora non soltanto sulla macchina io ho visto su LinkedIn che tu eri proprio in uno dei settori sì nell'energia esatto raccontaci il contatto cioè come è avvenuto questo passaggio e se pensi che l'esperienza il nome il brand ABB ABB ti abbia comunque anche agevolato in certe fasi cioè come sei entrato in contatto con questa realtà che era anche in un'altra nazione giusto? sì assolutamente allora io appunto volevo andare all'estero quindi da quando sono entrato in ABB ho cercato di andare all'estero ci sono sempre i programmi opportunità ci sono andato molto molto vicino e quando quell'occasione è sfumata per delle condizioni proprio anche aleatorie se vuoi questo fa anche capire poi nella vita tu puoi avere un obiettivo puoi provarci ma ci vuole anche un po' di fortuna le cose devono incastrarsi in quel caso lì non si sono incastrate e quindi quella è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché io volevo andarci all'estero e so che sembra un po' romanzata con la storia però è così io stavo leggendo ho letto la biografia di Elon Musk ho sempre letto comunque tanto ho sempre letto le biografie tra la categoria di libri che mi piace e quella mi ha particolarmente fulminato ok? fulminato era il 2016 fino al 2016 Elon Musk non era Elon di oggi e Tesla non era la Tesla di oggi nel senso era comunque molto molto meno famosa e quindi quando ho letto di questo che vuole fare le auto elettriche e lancia i rocket i razzi spaziali che tornano indietro non ci credevo ho cominciato a documentarmi ho visto che effettivamente sembrava che stesse facendo tutte queste cose ho scoperto che questa azienda aveva una sede europea ad Amsterdam che era una delle città in cui mi sarebbe piaciuto trasferirmi e ho detto ma sarà che sarà che ci provo e quindi non avevo nessun contatto non ero mai andato all'estero non avevo neanche mai fatto un Erasmus quindi io proprio vinto internazionale zero ho fatto una cosa che a me sembrava ovvia al tempo ma vedo che per tanti non è ovvia e quindi la consiglio di fare ho contattato tutti gli italiani che lavoravano in quell'azienda perché ho detto vediamo perché italiani perché da italiano in italiano magari mi esprimo meglio magari tocco una corda magari gli faccio pena e quindi non è mai stato così facile su LinkedIn rintracciare chi c'è e quindi non mi ricordo come li ho cercati ma insomma non è troppo difficile se cerchi ma probabilmente vai ad entrare in Tesla guardi gli impiegati guardi se hai dei secondi terzi contatti ho scritto 10-15 persone e un paio mi hanno risposto quindi cos'è che gli ho scritto gli ho detto ma com'è lavorare lì ma ci sono posizioni aperte ma come posso fare per propormi ma questo mio curriculum secondo te ho delle speranze per cioè così in modo molto naturale proattivo per dirgli a me piacerebbe lavorare lì cosa devo fare la risposta di quei pochi che mi hanno risposto è stata la ovvia che è quella che mi sembra ovvia al momento che è sì questo è il sito devi applicare in una posizione ok quindi ho fatto questo e incredibilmente mi hanno chiamato incredibilmente devo dirti un passaggio che secondo me è fondamentale perché a volte le persone mi chiedono ma come fai a entrare in quell'azienda che è tanto blasonata ma anche a BB se vuoi devi vedere qual è il tuo unfair advantage direbbe Ali Abdal un youtuber che ci piace un bellissimo libro unfair advantage cioè qual è il mio era che sapevo il tedesco avevo studiato tedesco al liceo ok a me non sembrava ovvia quella cosa lì quindi pensa anche l'ingenuità ma tu se vuoi entrare se sei a BB e cerchi un ingegnere elettrico che sappia parlare anche solo due anche di tedesco perché poi non ti serve a volte madrelingua nel contesto lavorativo ti serve che sappia capire la mail che sappia rispondere a un cliente sappia prendere una chiamata quanti ce ne saranno nella provincia di Padova probabilmente pochi e infatti sono entrato in Tesla Tesla Energy aveva tre mercati Inghilterra Italia e Germania cercavano ingegneri elettrici che parlassero possibilmente due di queste lingue e io le parlavo tutte e tre e quindi capisci che un profilo che era sì buono però non incredibile cioè comunque un ingegnere che ha sempre solo vissuto e lavorato in Italia non ha esperienze assurde però ha un'ottima azienda ed ha il check delle lingue quello sicuramente è stato il grimaldello per me per entrare in quell'azienda lì se mi fossi confrontato con altri ingegneri elettrici della mia età perché poi adesso ti parlo un po' dei profili che c'erano in quell'azienda non avrei avuto nessuna speranza perché c'erano delle bestie c'erano delle persone con dei curriculum e che avevano fatto delle cose incredibili e questo è il bello di Tesla quindi per me la fortuna è stata il tedesco quindi anche secondo me magari chi ci ascolta dovete cercare di incastrare la vostra laurea con qualche skill atipica non sapete il tedesco a parte che potete impararlo però magari avete la programmazione magari avete cioè capito quando tu combini non so se sei d'accordo due skill ti dà un'unicità che se tu trovi l'azienda che sta cercando esattamente quel profilo allora vai a competere con cinque persone non con mille e questo è stato un po' la storia no è toccato un punto fondamentale su cui io batto spesso cioè le persone devono rendersi conto ma fa parte anche del come ci si propone nei colloqui perché a un certo punto quando capisci questa cosa immagino che successivamente te la sei anche rivenduta quando hai visto che era quello il grimaldello perché tu proprio parli sì probabilmente quando ti chiedono la classica domanda ma perché dovremmo scegliere lei e dici sì perché probabilmente avete centinaia di persone che hanno questa competenza però di loro magari una parte ha anche quest'altra una parte ha questa esperienza e che hanno fatto anche questo specifico progetto probabilmente siamo in tre no? e quindi impari che fai parte di un di un'elite perché non vuol dire un'elite in assoluto ma un'elite per quella specifica esigenza mi hai fatto ricordare di una persona che conosco che è lì formazione di interpretariato parla fluentemente cinque lingue e un'azienda di un settore completamente nuovo l'ha presa perché ha detto faccio prima a formare te sul topic che a formare una persona che conosce il topic su cinque lingue perché abbiamo bisogno di gestire con un individuo più mercati e quello è esattamente l'unfair advantage di cui a cui accennavi prima ed è fondamentale quando si inizia anche a capirlo e a pianificarlo assolutamente e quello delle lingue è un classico soprattutto per i tecnici se ci sta ascoltando qualche ingegnere perché già se vai sul reparto sales cioè è evidente che la tua conoscenza della lingua richiesta è molto più alta devi vendere a queste persone devi andarci al ristorante sappiamo che sono i venditori ma se sei un tecnico del supporto tecnico ok quindi parliamo di quello che facciamo in Tesla dovevo aiutare gli installatori ad installare il prodotto quindi lavoravo per il Powerwall che è la batteria domestica di casa quindi se tu hai dei pannelli fotovoltaici sappiamo che il flusso diciamo la curva del fotovoltaico va bene durante il giorno ma non va durante la notte quindi vuoi installare una batteria Tesla ha un prodotto e ha un supporto tecnico perché se l'installatore è in sito e ha un problema deve avere qualcuno a cui chiamare a cui mandare una mail e prendono ingegneri perché le domande sono che interruttore devo mettere le luci mi fanno flickering quanti kilowatt posso installare quindi sono domande tecniche non sono di un diciamo di un customer service in quel caso lì la richiesta della lingua è si abbassa no? cioè basta che tu sia in grado di comunicare l'importante è che tu sia un buon tecnico e quindi ho sempre trovato che gli ingegneri farebbero bene a impararsi una diciamo l'inglese lo diamo per scontato ma se si imparassero ho capito il francese o il tedesco magari il spagnolo è già meno perché nel mercato è meno forte ti impari il russo sì è uno sforzo ok magari ti impieghi un anno però se sei un ingegnere elettrico che sa parlare russo cioè sono convinto che non hai problema perché l'azienda a cui serve esattamente quel profilo c'è cioè sei assicurato io ho visto persone che hanno campato tutta la vita perché sapevano bene una terza lingua probabilmente le hai viste anche tu veramente tante soprattutto queste lingue più complicate perché ragazzi non potete imparare lo spagnolo e pensare che sono un asset competitivo prendiamoci in giro però a me in diversi ruoli ma anche studi di commercialisti e tutto diciamo guarda solo perché parliamo tedesco che è un che è un problema come lingua da imparare e cioè la quantità di richieste per gestire clienti è incredibile questo è assolutamente concordo però ci devi raccontare cosa c'è com'è Tesla dentro perché noi ci immaginiamo tra un lunapark e un manicomio in versione positiva ovviamente allora Tesla è un'azienda unica secondo me è stata un'esperienza assurda a volte mi chiedevano ma la consiglieresti a tutti no la consiglierei a pochissimi ok cioè la sensazione non è di essere in un'azienda noi ridavamo con i nostri colleghi di questo ma sembrava di essere in una setta ok perché sei tu contro il mondo ok i tuoi clienti sono o i clienti più sfegatati che un'azienda può avere o haters capito quindi il flusso di emozioni che tu hai a lavoro per esempio io che ero nel service poi dal supporto tecnico sono andato sono passato al team di ingegneria quello di sviluppo prodotto eccetera però il sintomo diciamo l'esperienza era sempre simile passavi da avere mail call incontri con persone arrabbiatissime ma si vedeva che c'era molto emotività anche legata a quello che rappresentava Elon Musk a tutte diciamo polarizzanti a tutto il gossip che c'era sì è un'azienda estremamente polarizzante e questo destabilizza in parte i dipendenti è molto figo quando ci sei dentro cioè io andavo con la giacchetta mi sentivo capito un ganzissimo io mi ricordo una volta che sono andato a fare un progetto a Londra avevo sempre mi imbardato con tutta la la giacchetta la maglietta quel logo mi hanno fatto un controllo perché avevo della strumentazione elettrica e il tizio dopo avermi fatto il controllo mi ha detto tipo una cosa tipo vai e cambia il mondo sai quelle cose tipo è incredibile quello che state facendo c'è il controllo in aeroporto ne hai tante di questo tipo di esperienze vai da un cliente a installargli una batteria o vai a fargli un preventivo e ti chiedono e ti mostrano la macchina non ho mai visto un'azienda che ti dia tanta energia ovviamente il rovescio della medaglia è che ti svegli la mattina guardi i tweet di Elon e tipo ma sai quante volte tipo dice mamma mia e capito ti arrivavano messaggi dalla famiglia messaggi dagli amici messaggi dai clienti ma questo è vero c'è tanta distrazione ok dal punto di vista tolto un po' così il folklore dal punto di vista del per gli ingegneri è secondo me il massimo che puoi trovare cioè perché lui è un pazzo crede veramente nell'innovazione io dal punto di vista di come imprenditore lo rispetto è il mio idolo le persone che lo criticano non intendono cosa ha fatto quell'uomo lì cosa sta facendo dal punto di vista imprenditoriale poi dal punto di vista come dire pubblico personale ho tante riserve ma preferisco non trattarle diciamo perché tante cose che dice non mi piace ma il coraggio che ha di mettere sempre tutti i suoi soldi la faccia sui suoi progetti di aver rivoluzionato di non aver speso un euro di marketing è assurdo e com'è possibile perché dentro le persone lavorano 70 ore ok 80 anche in Europa perché lavoriamo poco gli americani ancora di più però ti dico io non ho mai lavorato tanto come in Tesla mai neanche lontano neanche in Amazon ok ero uno dei pochi pesodipendenti che entrano in Amazon quando entri dicono sai che qua si lavora si è vero si lavora duro ma fidati che era peggio dove ero però però non non mi sembrava neanche fosse lavoro ciò che sembra a tanti diranno questa è la stronzata più grande della storia che se lavori su una cosa fighissima era così lì era così c'è anche lì il rovescio della medaglia il rovescio della medaglia è che è veramente un'azienda che ti assorbe allora le aziende con un brand così forte hanno comunque un campo magnetico i dipendenti devono allinearsi con questo campo magnetico puoi vederla così se vuoi l'immagine ed è è bello o è brutto è buono avere un brand così forte o è brutto ho imparato da uno speech di Nicolò Andreula che dipende dipende dal dipendente com'è l'importante è che l'azienda sia chiara nelle aspettative non devi dire di avere quel brand lì che rivoluzioni il mondo se poi non lo fai ok Tesla è chiarissimo quindi per me che ero comunque alle prime armi nel mondo internazionale anche professionalmente avevo tre anni e mezzo di esperienza era quello che cercavo sentirmi parte di un gruppo ok sentirmi l'appartenenza il logo il brand il cameratismo che c'è in quell'azienda lì è meraviglioso alcune delle amicizie che ho stretto perché vivi un'esperienza talmente intensa talmente tante ore in ufficio talmente tanto stress se le cose non funzionano poi parliamo di come sviluppano i prodotti perché tante cose positive ma anche tante negative era quello che volevo in quel periodo lì della mia vita adesso con un po' più di maturità che adesso che ha cominciato a piacermi di più la libertà il poter lavorare dove voglio la creatività ecco non sarebbe più per esempio un ambiente per me però da giovane ingegnere era il massimo che potessi trovare perché mi ha sbloccato tanti diciamo tanti livelli ma una domanda tu già hai accennato che in quell'esperienza hai comunque coperto o visto diverse parti no? hai detto dalla parte tecnica lo sviluppo ma un'azienda così che se vogliamo è una delle rarissime combinazioni quasi di corporate start up para quindi dimensioni già importanti ma mindset assolutamente dinamico cioè lì c'era immagino non c'era una vera formazione come in ABB non è che andavi in aula a seguire qualcosa era più un jump in the water c'era zero formazione zero e per quello che dico io non considero mai Tesla come prima azienda se tu sei un profilo come lo ero io a 24 anni c'è qua anche poche esperienze di vita se poi sei uno di 24 anni super sgammato che ha fatto la start up di qua ci sono quei profili lì sono quelli che entrano in Tesla c'era gente che entrava che era l'università olandese che aveva fatto questo progetto che era andato in America a testarlo perché poi l'università per esempio i politecnici l'università di ingegneria dell'Olanda sono fortissime fanno dei progetti che capito fanno invidia all'R&D di ABB se vuoi certe università e quindi ovviamente se tu per quelle esperienze ci passi con i 20 21 22 anni tu hai 24 anni che sei un razzo c'era gente così io non ero così a 24 anni capito e neanche a 27 quando sono entrato in Tesla però sei quel detto se sei il più intelligente della stanza sei nella stanza sbagliata l'estremo l'estremo è opposto se sei il più scemo della stanza sei nella stanza giusta io ero nella stanza giusta in Tesla ok c'è proprio perfetto c'è anche un po' di sindrome dell'impostore all'inizio soprattutto i primi se vuoi 6-7 mesi perché poi parlavo un inglese molto scolastico ripeto ovunque mi guardassi vedevo solo profili stellari poi cosa succede che mal di testa dopo mal di testa l'inglese si sistema le batterie capisci come funzionano anche il tedesco è migliorato la vita internazionale ha cominciato a quadrarmi anche tutti quei termini che non capisco per esempio io parlavo inglese in ABB però parlavo sempre un inglese professionale e quindi la difficoltà per assurdo in Tesla ce l'avevo quando andavo alla macchinetta del caffè o a pranzo e mi chiedevano cosa farei nel weekend e non sapevo mai niente non sapevo come dire posata e non sapevo cos'era la swarming ed ero sempre capito un po' birra della situazione e ti senti così devi passarsi per questa esperienza anche di vergogna un anno dopo capito magicamente ti ritrovi in una situazione in cui sei fluido la prima volta che fai una battuta in inglese gli altri ridono tipo quella secondo me è sempre una maestra esatto quello è l'indicatore che padroneggi la lingua e tutte ste cose e poi anche se vuoi ti rendi conto che poi tutti sti geni non ci sono cioè nel senso ognuno ha il suo percorso quindi io ho lavorato con gente che veniva fuori da Stanford gente che a 15 anni aveva fatto prototipi di auto elettriche soprattutto i californiani cioè questi erano gli europei immaginati i californiani capito lavorandoci dici vabbè anche lui c'ha quella carenza su quella cosa lì è molto bravo su questo magari c'ha meno intelligenza emozionale però magari lui parla solo in inglese però c'hai capito e quindi è una cosa di ego non dovresti paragonarti agli altri però è giusto sì la vedi che poi alla fine i veri geni i veri geni Maurizio sono quelli che le creano quelle aziende lì ok i veri geni sono Jeff sono Ilo gli altri sono professionisti estremamente intelligenti ma più che sai intelligenza cosiddetto intellettivo c'è ambizione e voglia di fare versatuità e voglia di lavorare no e soprattutto ti avvicini quindi la cosa è se uno vuole diventare come quelle persone lì l'unico modo è avvicinarsi fisicamente lavorare con loro e poi un giorno ti capita che uno dice a te ma no no quante cose sai ok ma come fai se per tutte queste cose però vedi che un po' di strada un po' di strada ne ho fatta la cosa mi ha fatto ridere io sono entrato che non sapevo assolutamente niente di batterie tra l'altro in ABB ho sempre lavorato come project manager quindi non era un ruolo da sì era da ingegnere ma era un ruolo più commerciale il contratto eccetera solo in Tesla ho iniziato a fare veramente l'ingegnere elettrico sono entrato nel CEI che è il comitato elettrotecnico italiano dove ci sono i professoroni capito che fanno gli standard normativi e io sono entrato nella parte quella della CEI 021 quindi le normative che regolano le connessioni alla rete della batteria eccetera andavamo alle riunioni ma richiedevano a me e mi faceva ridere ovviamente non sapevo nulla in confronto a loro però tu eri rappresentante di Tesla quindi volevano sapere come stava facendo la tua azienda e quindi è anche un'azienda che ti porta a fare queste esperienze assurde perché ha talmente tanto i riflettori che le persone si approssimano a te e ti invitano a cose vogliono sapere devi anche stare un po' attento al social engineering per esempio o a non dare informazioni riservate se vuoi anche tipo qualche succede qualche giornalista ti chiede quindi è un'azienda molto interessante anche da questo punto di vista davvero interessante la parte mi ha fatto ricordare tantissime casi sul discorso dell'inglese io dico sempre solo in Italia ci abbiamo ah no lo conosco a livello scolastico più la gente dice lo capisco ma non lo parlo e io mi ricordo che appunto come accennavi tu c'è la logica del ah impara l'inglese professionale no l'inglese è uno perché la cosa veramente quando tu sei in una riunione e stai parlando del budget del 2024 sai che stai parlando di quello ma come dici tu se sei a pranzo o uno ti mette la mano sulla spalla per una per una chiacchierata e ti dice qualcosa e sei distratto potrebbe averti chiesto da qual è l'ultimo libro che hai letto a che squadra tifi a che fai questo non ne hai idea allora là o conosci la lingua oppure devi veramente improvvisare soprattutto in quegli ambienti lì perché in quelle aziende lì l'ho ritrovato anche in Amazon alzandosi un po' l'asticella dei dipendenti si alza anche il livello di inglese magicamente perché tipicamente gente che ha studiato all'estero eccetera quindi non solo hai a che fare con l'inglese capito normale hai a che fare proprio con il pop poi lavori tanto con l'America lavori tanto con gli inglesi tutti i loro accenti io mi ricordo che il mio secondo capo i primi due o tre mesi credo non ero in grado di capirlo perché era dal nord dell'Inghilterra e quindi anche lì però mi fai i trucchi esatto avevo un collega scozzese capito di Glasgow che ci ho messo un po' non so un anno forse a capirlo ma sono esperienze cioè come cosa c'è di meglio di questo e queste sono le cose che ti hanno la corporate ok tra l'altro le due trasferte più belle che io abbia mai fatto lavorative ne ho fatte tante decine e decine sono quelle di Tesla due settimane in California a Palo Alto cioè proprio nel cuore dell'azienda siamo andati alla Gigafactory in Nevada con un aereo privato perché c'erano talmente tanti voli che avevamo un aereo privato e c'era il numero due il CTO di Tesla vado in ufficio vado in bagno incrocio in long mask cioè quelle sono cose che tipo ti restano per tutta la vita secondo me perché vedi un po' è come essere in un set di un film io quelle due settimane lì mi sembrava di essere in un film perché vedevo i miei eroi mi sarebbe piaciuto farmi selfie tutto il giorno e mandare ai miei amici per dire guardate dove sono e mi stupivo di come mi stessero pagando per fare quelle cose lì quindi un'azienda che ti fa sentire così che ti sembra incredibile che ti stiano pure pagando per fare quella cosa lì è un'esperienza è un'esperienza unica come accennavi con il suo prezzo perché ovviamente appunto non è che un po' di contro perché sennò sembra una marchetta ma te lo dico in modo molto naturale cioè io sono comunque un fan e l'ho visto da dentro ma non è per tutti ho visto un sacco di gente essere licenziata se vuoi anche ingiustamente comunque Elon siccome l'azienda cresce molto ogni tot deve licenziare il 7% dell'azienda è una sua strategia che ha anche un senso perché dice se una cosa cresce così 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 non riesci a farla crescere bene non riesci a selezionare tutti bene ti entrano anche delle marce o certi ci sono degli overlapping tra le funzioni tutte le cose giustificate quindi colpo d'accetta ogni tanto quindi gente che magari si era trasferita con la famiglia cioè a casa ho visto un sacco di burnout non avevo mai visto un burnout ok ora so cos'è un burnout e quando vedi tipo una ragazza giovane brillante che passa da essere carichissima a essere tipo rotta nel giro tipo di un mese perché poi sai è sempre più stressata è sempre più stressata arrivi al carico direttore il burnout è proprio è come una rottura cioè è come un un guattolo fa impressione cioè fa veramente impressione quindi c'è un carico di stress che non tutti possono sopportare quindi forse quello è anche un po' un discriminante per chi resta in quell'azienda lì e poi c'è vita privata feste le gente mi dice Amsterdam che feste però professionalmente anche personalmente mi sono divertito un sacco quindi era quello che volevo fare non ho nessuna come dire e immagino non è stata una rinuncia immagino Lorenzo che parlando appunto di percorso di carriera cioè sono due badge molto importanti ABB e Tesla no? quindi cioè sono come diciamo prima sono passaggi scelte che poi ti condizionano il resto della carriera perché a un certo punto uno cioè non ha quasi bisogno di farti il colloquio perché se se hai se andavi bene per loro probabilmente andrai bene per tante altre aziende che hanno certe specifiche elasticella a un certo livello e quindi dopo questa esperienza immagino molto particolare qual è stato il trigger per dire ok basta e soprattutto se avevi pianificato perché tu hai fatto un passaggio da un'azienda importantissima a un'altra importantissima ma qual è stato il motivo è stato pianificato avevi deciso prima di uscire poi è venuta l'esperienza com'è un passaggio del genere? allora è stato pianificato ma ripeto per il motivo del tempo quindi non ne potevo più del tempo di Amsterdam io non sapevo quando mi sono trasferito ad Amsterdam che il bel tempo fosse tanto importante per me perché ho sempre avuto la fortuna di vivere in Italia e quindi di non capire cosa volesse dire avere una carenza di sole al terzo inverno ok dopo il terzo inverno ho detto questo è l'ultimo ho chiesto a Tesla di essere trasferito da buoni persone di Tesla ci hanno messo mille mesi incertezze poi quell'azienda è tutto caotico ok non c'è struttura alla fine mi hanno fatto l'offerta però siccome io non mi fidavo dell'azienda per ovvi motivi ho avuto un piano B un mio ex collega era entrato in Amazon mi aveva detto guarda che l'azienda è fotonica guarda che va bene ma fai l'application ti faccio il referral referral penso che sappiano che tutti sappiano cos'è però la potenza di quelle aziende lì è farsi un bacino di contatti di network che poi si sparpagliano in giro per altre aziende fighe e tu conosci qualcuno in qualsiasi azienda io penso che in qualsiasi azienda in cui volessi andare a lavorare avrei un contatto ok avere un contatto dentro un'azienda come ben sai è importantissimo non è che basta quello ma ti dà una corsia preferenziale per il referral che è comunque una cosa che le aziende promuovono ma spesso anche per una telefonata introduttiva in cui uno ti spiega applica per questo team rispetto a quell'altro team applica in questa città rispetto a quell'altra città ti dà delle informazioni da insider che non puoi avere se no e quindi io seguendo il consiglio del mio amico ho applicato alla Barcellona quindi ho fatto una selezione prima della città è il campo chiarissima sì sì ho detto beh adesso ho 30 anni ho fatto le mie belle esperienze mi permetto questo sfizio voglio andare in Spagna perché comunque sento affitto tra tutti i motivi che possiamo immaginare ma in più mi acquisto anche bonus lo spagnolo che non dà grande cose nel mercato ma uno sfizio da una lingua in più e qualsiasi italiano che va in Spagna dopo sei mesi parla spagnolo dopo otto mesi parla spagnolo e quindi ho scelto Barcellona tra Barcellona e Madrid che erano le due opzioni internazionali per il mare perché motivi molto profondi tipo c'è la spiaggia con zero aspettative perché non mi piaceva il settore la logistica l'azienda era comunque questo colosso in cui c'erano anche tanti feedback sai un po' negativi ma sarà così sarà veramente che trattano così i dipendenti ma sai tutte le voci che ci sono anche attorno a Amazon quindi io ho applicato così per non sapere ne leggere ne scrivere perché questo insisteva e mi è arrivata alla fine l'offerta di Tesla però intanto avevo fatto i colloqui di Amazon e i colloqui di Amazon erano stati assurdi cioè dopo tre anni di caos arrivare in un'azienda che era super strutturata un panel bellissimo delle persone veramente interessanti domande preparate rispettosi del mio tempo ok quindi cosa che in Tesla non succedeva curiosi della mia esperienza caricandomi a molla no ma con questo team tu faresti questo eccetera quindi come dire tra tutto coi guanti da Amazon un'offerta molto importante ho passato tipo due tre giorni veramente è stato tra i più difficili della mia vita forse fino adesso non ho mai avuto grossi problemi è stato veramente difficile quella scelta di Tesla o Amazon a Barcellona bei problemi sono belli sono bei problemi anche Tesla era su Barcellona mi aveva fatto non c'era l'ufficio a Barcellona il mio capo ha lavorato tipo 5-6 mesi per convincere la California perché comunque io ero unico in Europa nel senso che ero l'unico che faceva quel lavoro lì quindi un po' l'ha convinto ha detto ma non c'è un team eccetera lui comunque continua il suo lavoro da Barcellona continua a fare il product engineer eccetera era contento come una Pasqua power quando mi ha dato l'offerta e io anch'io poi nel frattempo stavo facendo i colloqui e niente l'ho chiamato il giorno che ero entrato dalle ferie ovviamente mi odia per questo e degli guarda che cambio azienda e questo dico anche l'importanza per le aziende di fare bene dei colloqui cioè Amazon sulla carta non aveva nessuna pilla per me non mi piaceva la logistica non ero mai stato appassionato di nastri trasportatori ok che è quello che sono andato a fare per quattro anni però ho visto una macchina da business oliata ok che mi ha impressionato ci ho detto ma secondo me qua se in Tesla ho imparato a essere attivo proattivo un po' scienziato pazzo prova fai testa rompi ok forse qua imparo come si fa un business che fa tanti soldi ok che comunque è importante anche quello nelle aziende comunque Tesla ne brucia ne brucia tanti poi sono arrivati i risultati tutto quello che vuoi mi ha impressionato la qualità dei colloqui la qualità delle persone e quindi sono andato Amazon è un'azienda eccezionale ma in vari settori tutti i settori che ho avuto modo di conoscere in Amazon per vari motivi sono assolutamente l'eccellenza e tant'è vero che rispetto al discorso che parlavi tu della struttura per esempio Amazon soprattutto negli Stati Uniti punta molto su quelli che hanno esperienza militare perché sono proprio le persone ideali per prendere governance seguirla processi e tutto hanno proprio dei programmi di hiring dalla parte dei veterani per cui hanno il giorno dei veterani ma lo vedi e ci sono delle cose che ho visto solo in Amazon poi magari tu le hai visto anche in altre aziende però per esempio i livelli in Amazon c'hanno i livelli e sono chiari sono pubblici cioè tu entri come militare sei livello 4 non lo so il livello 4 è il tipico di uno che esce dall'università e tu sei un meeting di qualcuno che ti chiama tu la prima cosa che vuoi fare è vedere che livello è ok perché comunque ti dà un'indicazione del tiro che avrà quella riunione cioè se ti chiamo livello 7 del tipo certo esatto a livello 8 tipo i director ed è fortissima questa distinzione e io che arrivavo da un'azienda in ABB sì ci sono i ruoli ovviamente però comunque un po' più sciallo con l'ambiente un po' più se vuoi informare almeno la sede la sede di Monserge un po' più familiare ok in Tesla è l'azienda più piatta della storia cioè a un certo punto tra me e il CEO c'erano tipo non so quattro livelli ok in Amazon avevo quattro livelli nel mio ufficio forse ma perché era un'azienda anche più piccola ma anche perché è un po' più piatta cioè ogni manager in Tesla gestiva decine di persone cioè tranquillamente uno poteva avere un team da 25 persone e dentro aveva dei junior dei senior si supponeva che i senior aiutassero i junior ma non c'era il manager con tre direct reports come per esempio in Amazon o come in altre aziende quindi mi stupiva molto questa gerarchia e non la capivo sinceramente poi l'ho presa e ha senso perché se tu sei a gestire un'azienda che ha un milione e mezzo di dipendenti Amazon c'è una nazione non è un'azienda capito e fattura credo che fatturi spaventura cavolato non so che fatturi tipo un trilione non so mille billions capito dei numeri assurdi e allora bisogna anche di un'organizzazione e quindi quello che ho imparato sicuramente in Amazon è comunicazione efficace ok B-sharper B-sharper il primo anno mi dicevano B-sharper perché voglio spiegarti tutto cos'è non mi frega niente ho 3000 cose loro hanno anche vietatissimi powerpoint hanno la logica dei documenti fatti in maniera diversa c'è tanto ed è veramente così ed è molto bello questa cosa del cioè tu quando hai un progetto di miglioramento ok e che raggiunge un tipo di lavoro quasi fosse non so una tesi magistrale a volte per tipo di profondità tecnica devi fare un documento che sia massimo di 6 pagine devi darlo in anticipo e le persone se lo studiano e fai un'ora di riunione per discuterlo i primi 20 minuti sono per leggere il documento perché magari qualcuno non ha avuto il tempo tutti in silenzio si leggono il documento che è stato scritto ore e ore da chi l'ha fatto in modo che sia più condensato possibile e non è che ok slide 1 c'è questo slide 2 avete domande e le domande che ti arrivano sono quelle che ti puoi aspettare da una discussione di una tesi vanno veramente in una profondità che io all'inizio ero allucinato e sono principi di business fondamentali che anche lì mi porterò secondo me per tutta la vita cioè il fatto di avere una documentazione tecnica fatta con quella qualità e non l'ho mai vista in avivina in tesla ok ma se vuoi anche un po' troppo cioè perché dopo lì c'è sempre il rischio di andare per un progettino devi comunque formalizzarlo eccetera però la macchina di business la macchina industriale di amazon per processi per chiarezza è incredibile poi per esempio l'altra cosa molto interessante sono i principi che principi anche quando entri lì ti sembra che sia un po' una religione ma cosa questi principi devo impararli a memoria eccetera invece poi ti guidano nelle scelte del lavoro quindi se vuoi imparare come lavorare se vuoi imparare come funziona un business vai in amazon perché guarda questo è infatti un punto su cui volevo chiederti qualcosa perché io ho visto la stessa cosa quando sono stato in toyota cioè pensa io come manager ho dovuto affrontare un training di mesi soltanto per imparare a fare la presentazione del foglio a tre perché appunto molto strutturato in maniera tale che sei efficientissimo le parole devono essere quelle e mi ha colpito molto il discorso che hai fatto del vedere più cose e della parte business nel senso che tu avevi se vogliamo l'opzione di continuare a fare quello che facevi in tesla ovunque perché una volta che sei un ingegnere specialista nella parte batterie iper banalizzo in tesla avresti potuto tranquillamente scegliere di essere strapagato ovunque per continuare ad approfondire quella cosa invece hai fatto una scelta dettata da un parametro per me fondamentale dove andare a vivere per vari motivi la tipologia di azienda ma soprattutto il fatto che ti sei messo in discussione quindi sei entrato in logistica di cui non conosci niente uscendo dall'università o lavorando in tesla ma soprattutto questa cosa che mi dicevi che hai iniziato a vedere come anche l'attività tecnica non è attività tecnica ma hai iniziato a vederla come parte del business cioè quando inizi a capire che il nastro trasportatore non è i tre secondi in meno per far percorrere questo tratto ma è quello che significa a livello di business immagino che sia quello lo switch che ti fa passare a una categoria di professionista superiore giusto? sì assolutamente diciamo quello che vedi anche in Amazon che è unico il motivo per cui io consiglio alle persone soprattutto ingegneri ma perché io sono ingegneri ma anche le persone con background anche gli esseri umani anche le persone con intelligenza emotiva no anche gli esseri umani di entrare lì è la grandezza la scala delle cose di Amazon cioè tu in Amazon puoi essere anche il category manager cioè quello che deve comprare il cartone ok se io ti dico il tuo lavoro è comprare il cartone magari non è tipo non ha tutto questo sex appeal questo titolo ma se lo fai per Amazon che è il consumatore numero uno di cartone capito in Europa cioè è un lavoro incredibile devi trovare mille fornitori hai contratti da zilioni di euro cioè ogni cosa che tu fai in Amazon ha una grandezza sproporzionata infatti anche lì c'è un po' uno scherzo interno che tu perdi completamente la nozione anche dei soldi se vuoi perché quando gestisci questi progetti io all'inizio cioè il primo progetto era comunque quasi non so 100 milioni ok e perché puoi permetterti tu anche da un nuovo arrivato gestire un progetto da 100 milioni o da decine di milioni che è il fatturato di fabbriche grandi ok o il fatturato di 10 anni di fabbriche piccole perché non è che devi partire da zero cioè è tutta una struttura matrice in cui comunque diciamo ti guida non è che devi inventarti il progetto cioè questo è il fornitore che devi avere cioè se vuoi il project manager in Amazon deve solo gestire le variazioni in teoria se tutto valisce non devi fare niente no però le variazioni anche minime in cantieri per esempio i primi due anni ho fatto cantieri in Amazon quindi perché per esempio ho anche accettato perché non avevo mai visto un cantiere proprio dal campo a un edificio di quattro edifici e quella grandezza di 50 campi da calcio e che tu facciano altri trasportatori o che tu faccia capito la parte di robotica o che tu sia nella parte di design and construction comunque è una figata cioè se hai un po' di curiosità tecnica queste gru enormi vedere 300 operaie a lavoro ovviamente sono cose che interessano a me magari qualcuno che mi sta ascoltando dice ma cosa mi sta raccontando cioè io ho questo tipo di curiosità nel vedere progetti grossi mi impressionano decine di camion di materiale cioè ogni cosa anche dove posiziono il materiale per il montaggio è tutto un challenge quindi quella parte lì mi è piaciuta un sacco la parte di cantiere Maurizio l'avrei fatta tra la vita se non fosse stata tremendamente impattante dal punto di vista personale perché comunque da lunedì a venerdì sei via prendi un aereo lunedì e prendi il lunedì venerdì quindi bellissimo dal punto di vista professionale ma sei sempre in giro quindi dopo due anni anche lì ho cambiato sono andato nel team di ingegneria che progettava diciamo questi progetti che io prima avevo visto quindi poi tutte le aziende io ho cambiato a metà dell'esperienza e se vuoi sia in Tesla sia in Amazon sono entrato prima nel team meno blasonato ok evidentemente chi è in cantiere è meno blasonato di chi fa il design ok però quando hai l'esperienza del cantiere è più facile entrare nel design proprio perché hai un'esperienza interna è uguale in Tesla chi risponde al telefono all'installatore tedesco incazzato è come dire un lavoro che ha meno appeal di chi fa il design del nuovo prodotto tutti vogliono sempre lavorare nel nuovo prodotto perché perché ci sono fondi perché è un lavoro più creativo perché comunque risolvere il service secondo me è uno dei dipartimenti più importanti delle aziende è uno di quelli più sfortunati perché hai a che fare sempre solo con problemi non è che spesso neanche te lo riconoscono però è un buon modo per entrare a volte perché c'è anche meno competizione esatto queste sono le varie porte di accesso di cui parlo spesso nelle aziende è proprio il discorso del uno degli altri vantaggi delle grandi aziende in generale anche questa possibilità di cambiare ruolo lavoro senza cambiare azienda cioè chiaramente un'azienda immensa come Amazon ti permette di vivere dieci vite professionalmente diverse all'interno della stessa azienda e prima hai hai toccato un punto su cui io anche spesso batto cioè la scala di quello che si fa io su questo faccio arrabbiare molte persone perché quando uno dice ah no ma nella piccola azienda vedi tutto sì è come dire sono più figo io che ho costruito il il castello di Barbie di quello che ha fatto soltanto un piano dell'Empire State Building ma dove vai cioè ma di che parliamo vuoi vedere tutto no sono d'accordo ma su una scala e tra l'altro questo è uno dei meccanismi che ti rende più spendibile nelle altre grandi aziende perché tu che hai gestito l'acquisto dei cartoni per 30.000 euro l'anno mi spiace ma la dinamica il modo in cui gestisci l'acquisto dei cartoni per 200 milioni l'anno non è lo stesso lavoro perché la scala ha delle implicazioni a livello di business di messaggio di negoziazione e per cui la competenza tecnica del conoscere i cartoni sparisce rispetto alla stakeholders management gestione previsione impatto di scelte finanziarie inflazione cioè è quella una delle cose maggiormente spendibili quando si passa da grande azienda a grande azienda il fatto che sai già quali sono le dinamiche le aspettative ed è un punto fondamentale per cui mi fa piacere riscontrarle anche nella tua altrimenti avrei dovuto tagliare questa parte dell'intervista senti e invece no io sono un fan delle grandi aziende perché ho visto quanto mi ha dato poi è solo la mia esperienza probabilmente ripeto c'è un po' di abilità e c'è anche fortuna in entrare in queste ma probabilmente se non fossero state queste sarebbero state altre quindi all'inizio secondo me andate a meno che non abbiate un'idea imprenditoriale geniale perché avete comunque una certa capacità anche innata o l'avete sviluppato non lo so ma lasciate perdere le start up a meno che tu non abbia veramente un'idea fortissima eccetera cioè sei Mark Zuckerberg che fa il tuo prototipo e vedi che funziona eccetera e sei già a Harvard quindi qualcosina lo sai fare va bene sei uno perso come me a 24 anni che ha sempre seguito anche la traiettoria che gli era stata tracciata anche quella è un'altra cosa cioè io ho imparato in Tesla a muovermi un po' più da imprenditore se vuoi infatti in quegli anni ho iniziato a fare progetti secondari proprio perché mi ha sbloccato tante tanti blocchi che avevo cioè io semplicemente non sapevo che si potesse andare fuori dal sentiero cioè si può andare c'è un sentiero tradizionale che si può andare fuori a tuo rischio e pericolo no cioè una delle prime lezioni che mi hanno dato mi ha dato un ingegnere senior di Tesla che si è messo mi ha detto no vieni qua a aiutarmi ha pensato a installare una batteria in ufficio che mi ha detto ma non dobbiamo chiedere a quelli di facility non dobbiamo chiedere al nostro capo arrivavo da BP dove è la procedura qua e quella mia guardata mi fa è meglio chiedere perdono che permesso e quella era la filosofia di Tesla e un po' l'ho fatta mia è una filosofia pericolosa puoi fare male ovviamente devi avere devi avere l'esperienza la sensibilità però ogni tanto di saperla anche utilizzare quindi come l'ho tradotta per esempio nel mio nella mia esperienza personale io quando ero in Tesla ho iniziato a fare un blog su veicoli elettrici su tecnologie elettrici mi piaceva fare avevo voglia di fare un blog ho fatto un po' di articoli eccetera poi ingenuamente ho chiesto autorizzazione al mio capo ovviamente se chiedi autorizzazione alla tua azienda e sei un dipendente di Tesla che ha già i riflettori eccetera ti dicono di no ok l'azione è presa quando poi ero in Amazon io non ho mai più chiesto permesso di fare progetti secondari ho detto se qualcuno avrà voglia mi dirà di no mi dirà che non posso fare un podcast mi dirà che non posso fare questo altro progetto su questo ora metto metto il cappello da dirigente dico occhio perché ci sono delle procedure nelle aziende se hai un business all'altra e tutto devi segnalarlo devi fare il disclaimer che non ci sia conflitto e tutto quanto per cui questo faccio il ruolo cioè occhio anche a proteggervi per evitare di essere esposti una domanda a un certo punto tu sul tuo profilo LinkedIn ovviamente no parlando di prestigio ex Tesla ex Amazon già questo ti mette ovviamente in in un quartile estremamente elitario di quindi poi che è successo perché ora non sei in un ufficio Amazon non sei a Barcellona cosa è successo Lorenzo ad un certo punto ha detto è il momento di quindi dopo dieci anni di corporate ho messo una domanda dai quindi cioè ok soprattutto ho ricevuto la promozione sono diventato senior design engineer e adesso aspettiamo la promozione per il prossimo livello cioè devi farteli queste domande perché quello è il cammino che avevo preso cioè se io fossi rimasto dopo quattro anni probabilmente dopo altri tre anni continuando a performare bene avrei raggiunto il prossimo livello ma allora a quel punto io conoscevo talmente bene l'azienda che potevo immedesimarmi cosa avrebbe voluto essere cosa sarebbe stato il prossimo livello cioè bastava guardare cosa fa il mio capo cosa fa il capo del mio capo voglio essere in quella posizione lì tra cinque anni tra dieci anni siccome sono domande lecite che uno deve farsi io me le sono fatte e mi sono risposto di no perché posso rispondere sinceramente in parte forse non avevo neanche le qualità per ricoprire quei ruoli lì e non avevo la volontà di svilupparle ok cioè dopo secondo me i livelli di senior diciamo i livelli di senior no funziona a diventare manager regional manager eccetera è sempre meno tecnico il lavoro è sempre meno legato al business è sempre più gestire le persone ed è sempre più politico ok è politico nel senso di contatti a me non sono mai stato un grandissimo amante di questa parte del lavoro non che come dire non voglio essere l'ingegnere che diceva politica fa schifo no però non è esattamente nelle mie corde ok e soprattutto a me non è che ho gestito qualche persona ok mi è capitato soprattutto nei cantieri anche team di fornitori esterni eccetera che avessi questo tipo di ambizione mio personale di avere un team grande sotto ok so che le persone comunque portano anche tanti problemi personali eccetera e avevo la curiosità di conoscere un po' di più il mondo imprenditoriale e quindi ho iniziato questo podcast che è partito proprio da zero per intervistare queste persone che facevano le start up che facevano cose diverse dalla corporate ok come hai fatto come hai iniziato eccetera quindi è un po' come in Tesla tu ti avvicini a quelle persone più passi tempo con quelle persone poi diventi uno di loro ok io dopo un anno e ore e ore spese ho realizzato che avrei voluto essere una di queste persone che ha il suo business che deve gestirsi non che deve continuare a eseguire diciamo degli ordini perché comunque nelle aziende devi fare un po' quello cioè hai un po' di libertà un po' di margine di creatività ma poca e ho preso un po' questa pausa nel senso dicendo ok intanto ho dei saving no? cosa importante da dire perché la vuoi nelle corporate? perché ti pagano bene ok? soprattutto queste aziende americane ti pagano molto bene ok? quindi a un certo punto puoi permetterti di dire sai che c'è io mi faccio un anno due anni sabbatici ok? che anche se guadagno zero comunque di fama e non muoio ok? e vedo un po' com'è il mercato stavo un po' scoppiando perché comunque è difficile gestire tutto un lavoro insomma dall'ingegnere in Amazon e anche cominciare a portare avanti queste attività secondarie e quando ho visto Maurizio che mi entravano delle offerte di lavoro cioè il podcast è pessimo per la monetizzazione diretta ok? però di 27 28 interviste che ho fatto mi sono state 3-4 offerte di lavoro ok? naturalmente se parli con CEO massimi dirigenti e cose ti fai dei contatti eccetera quindi ho detto vabbè secondo me posso prendermi il rischio perché comunque se anche va male se non costruisco niente in azienda secondo me da qualche parte ci rientro ok? ma dall'altra ho sentito un po' questa una vocazione non so cosa dirti ma dà voglia di costruire qualcosa di mio senza sapere cosa però io penso che questo sia un passo che questa libertà te la sei costruita no? perché ovviamente in dieci anni oltre all'appunto avere i saving da parte e tutto però tu adesso hai costruito una credibilità professionale che ti permette di essere tranquillo perché dici scelgo io qual è il il tavolo su cui giocare no? cioè se tu avessi per obbligo o per scelta la necessità di lavorare soltanto in quei dieci chilometri quadrati sarebbe molto molto più difficile fare certi più mentre adesso tu dici ho tre nomi di eccellenza di cui due epici nel curriculum ho l'esperienza la competenza anche la capacità di mettermi in gioco perché domani se dovesse esserci un'opportunità in qualunque altra nazione tu sei una persona preparata per organizzarti decidere se va bene tutto questo permette di fare scelte di un certo tipo ed è quello che io dico spesso cioè nella carriera nella vita ci sono fasi completamente diverse anche per me cioè il Maurizio 35enne che lascia un lavoro sicuro e in motocicletta me ne vado senza lavoro a Londra cioè ma ora che tra tre settimane faccio 52 anni con una bimba e tutto ma che devo fare io ho ancora là sopra il casco della motocicletta a memoria di quei periodi e ovvio che sono fasi diverse però più uno investe nella maniera giusta all'inizio più può capitalizzare e avere la libertà di movimento successivamente a me piace molto il il tuo podcast perché la qualità dei messaggi che si riceve tra l'altro metteremo tutti quanti i link per consiglio di iscriversi perché anche la tipologia di domande che fai ai tuoi ospiti è chiaro che tu hai ben visualizzato quali sono le opportunità e i punti chiave nelle varie scelte sia di carriera che di vita e questo permette anche poi di estrarre un bel valore nelle interviste infatti è un progetto che non mi stupisce che stia andando così bene e che stia dando questi tipi di riscontri per cui ora tu sei in questa fase del posso permettermi di a bocce ferme decidere metabolizzare e tutto sì e anche una cosa forse un dettaglio male importante da capire è una scelta personale cioè secondo me all'inizio della carriera è importante correre fare esperienze quanto può a un certo punto deve esserci un momento in cui dice ok ma tutto questo l'ho fatto per stare meglio e nel mio caso io ho una ragazza brasiliana viviamo a Barcellona due persone che lavorano da dipendente quindi una coppia internazionale che hanno una coppia internazionale che ha 25 giorni di ferie all'anno questi sono i giorni che ti danno in Spagna ha delle difficoltà personali logistiche cioè oggettivamente vorrebbe dire che da qui il resto della mia vita devo farmi sempre le vacanze in Italia in Brasile anche qua dici problemi da primo mondo sì ok però se io una volta voglio dammi a fare un viaggio da un'altra parte ok non è che voglio ogni volta e tra l'altro non è che in Italia nel mio paese e nel suo paese cioè è un limite molto forte non avere la libertà geografica per una coppia internazionale soprattutto consci del fatto di avere le capacità o le potenzialità di poter trovare un lavoro da remoto ok quindi nel momento in cui anche Amazon perché è stato un passaggio che ha fatto Amazon quest'anno a maggio ha annunciato no return to office come tante aziende tre giorni a settimana eccetera allora lì ho cominciato a pensare perché sarebbe stato completamente diverso se Amazon per esempio avesse dato la disponibilità completa perché a quel punto dico beh scusa ho un lavoro ben rimanato retribuito mentalmente challenging che mi lasciano tutta la libertà del mondo allora lì sarei comunque sempre stata una situazione diversa insomma quel passaggio lì dell'azienda mi ha fatto pensare che a lungo termine mi avrebbe creato dei problemi personali almeno io l'ho vista così quindi anche con voglia di farci un'esperienza ci siamo guardati perché non ci facciamo questo viaggio che comunque volevamo farlo vediamo se riusciamo a reinventarci lei è architetto quindi forse sicuramente per lei è più difficile perché c'è meno lavori da architetto da remoto ogni volta che cerchi remoto architetto trovi gli architetti di software giustamente lì è pieno di lavori da remoto però come dire diamoci una possibilità il caso peggiore è che ci siamo fatti un viaggio di 3-4 mesi e probabilmente torniamo nelle rispettive aziende ok perché comunque anche lì il consiglio è quando vi lasciate vi lasciate bene con la vostra azienda io ho cercato di lasciarmi bene ma proprio perché avevo fatto una bella esperienza mi ha dato tantissimo quell'azienda lì ma poi l'ho visto come dire nel lungo termine ho detto ma secondo me più aspetto più difficile è e poi magari a 40 anni mi trovo 45 anni mi trovo incasinato stretto frustrato che non ho tutta questa libertà e magari avrei potuto costruire qualcosa io ho sempre anche nelle scelte di lavoro e di vita ho sempre cercato di minimizzare i possibili pentimenti in punto di morte ok scusa l'argomento dark però per me è un pensiero tipo come dire ma se nel punto di morte mi sarò pentito di non essere andato all'estero sì quindi ci vado ma se sto ad Amsterdam faccio tutto questo pacco di soldi ma sono tipo depresso devo prendermi le pastiglie perché non mi arriva abbastanza luce sarà comunque una vita felice no quindi vado adesso ho provato questa strada qui e insomma siamo qui anche per giocare perfetto no penso grazie Lorenzo e penso che ci siano veramente in tutto questo percorso che hai raccontato ci sono una serie di spunti interessantissimi per la carriera per le scelte di vita per le priorità e io sono molto d'accordo con te sul sul valore professionale dell'azienda perché anche la startup spesso e volentieri l'obiettivo è vendere un prodotto se non la stessa azienda poi a un cliente grosso no? e allora più conosci le dinamiche di un'azienda di come si ragiona che tipo di messaggi vanno dicendo ma io poi ho 5-6 5-6 ex dipendenti sia di Tesla sia di Amazon che lavoravano proprio a stretto contatto con me che hanno lasciato e hanno fatto una startup quindi non solo hai acquistato una sicurezza un'esperienza professionale hai capito quali sono i problemi del mercato ma anche la credibilità stessa che tu hai cioè quando vai comunque se richiedi dei fondi o il primo cliente che devi trovare a cui vendergli un prototipo ti vendi come uno che ha 24 anni e ha sempre vissuto a casa dei suoi o ti vendi come uno che ha lavorato 10 anni per queste aziende quindi se vuoi anche se il tuo futuro è da imprenditore è un passaggio così esatto la credibilità di uno startup ex Google ex Amazon ex Tesla è assolutamente esponenziale che ti riporta sempre in quel quartile elitario di cui parlavamo benissimo senti allora io ti ringrazio tantissimo veramente penso ci sia un valore altissimo nelle informazioni che condiviso vuoi ricordare un attimo come trovarti quali sono i tuoi progetti adesso come seguirti sì beh intanto grazie a te per avermi aspettato è stato veramente bello anche raccontare un po' rivivere tutte queste esperienze spero che ci sia qualche spunto utile io sono mi trovate principalmente su LinkedIn e Instagram ma direi LinkedIn perché Instagram è più per le foto di quando sono in Thailandia cose personali quindi siamo come social media quindi mi chiamo Lorenzo Danese poi il mio tag è LNZ Danese però insomma mi trovate e poi ho questo podcast che si chiama Come ho iniziato e c'è su YouTube e c'è anche su tutte le varie piattaforme su Spotify su Apple quindi questi direi sono i canali principali sto ricevendo tanti bei feedback dal podcast se avete voglia di ascoltare qualcosa e vi piace fatemelo anche sapere perché è difficile a volte sapere cosa piace cosa non piace cioè io vedo visualizzazioni ma magari ti scrivono pochi e quando mi scrivono mi danno mille informazioni utili mi è piaciuto questo episodio per questo passaggio che hai fatto quindi ecco se qualcuno si ascolta qualcosa e se vi piace potrebelo anche sapere poi ci facciamo una chiamata ma è interessante anche per voi perfetto va benissimo allora grazie ancora noi ci rivediamo sicuramente su questo canale per altri contenuti fate sapere se avete domande per Lorenzo se volete che approfondiamo qualcuno degli argomenti perché se tutto va bene magari ci possono essere delle altre interazioni anche di follow up perché abbiamo anche dei progetti che stiamo vedendo in parallelo quindi fate sapere nei commenti appunto se ci sono domande e noi ci rivediamo al prossimo video grazie a tutti per l'ascolto ciao grazie Maurizio grazie a tutti